Volevo comprendere come tu sei arrivato ad acquisire quella che è la competenza per poi metterla in pratica nelle tue di aziende e quindi pian piano fare da ripetitore. Direi sbagliando, facendo una valanga di errori. Dalla mia esperienza manca una colonna importante che è il piano di esecuzione, c'era positioning, strategia, KPI, customer care, in mezzo c'è il piano di esecuzione, cioè il fare, il mettere in esecuzione le cose, le idee, le strategie che abbiamo e giustamente si fanno tanti errori, si fanno tanti errori da imprenditore, si fanno tanti errori da marketer, ma tante cose a volte funzionano. Quindi l'esperienza secondo me la si accumula cercando di sbagliare, più si sbaglia e più si analizza ciò che si è commesso come errore e più diventa il segreto per poter migliorare.